Pesaro 2021, luogo e data che identificano il ritorno in città di un evento sportivo di dimensione internazionale quale saranno i prossimi campionati europei di ginnastica. Tre settimane dal 20 settembre al 10 ottobre per tre eventi sportivi, gli europei di ginnastica aerobica e gli europei junior e senior di ginnastica acrobatica. Dopo mesi di restrizioni e cancellazione di eventi, Pesaro prova a rilanciare un messaggio di speranza attraverso lo sport in un evento organizzato da Esa Tour Group che ospiterà circa 700 atleti accompagnatori. La conquista di una vittoria ad una candidatura abbastanza sofferta, visto che abbiamo battuto concorrenti molto prestigiose come capitali europee grazie alla location del rinnovato palasport di Viale dei Partigiani che ospiterà la manifestazione. Pesaro ha vinto perché la centralità dell'arena consente agli atleti e alle delegazioni spostamenti molto rapidi e molto facili. Diciamo che in questo periodo sognare di ospitare una manifestazione del genere che come sapete, come hanno già detto, porterà a Pesaro tra i 600 e i 700 atleti ogni settimana è una cosa che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione perché in un momento, diciamo in un momento, ormai è più di un anno che il settore del turismo è completamente bloccato e ha lavorato veramente poco anche la scorsa estate. Quindi questa è una speranza per ridare fiato, energia e diciamo anche carburante ad un intero comparto veramente in affanno. Nella Sala Rossa del Comune di Pesaro è stato presentato il logo, realizzato dal liceo artistico Mengaroni e applaudito dallo stesso presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gerardo Tecchi e dall'assessore allo sport Mila della Dora che sarà presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Europei. Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, ha testimoniato anche la soddisfazione di poter finalmente rivedere il vecchio palasport di Viale dei Partigiani riaprirsi in veste ristrutturata per un evento sportivo. Noi non ci stiamo fermando dal punto di vista degli investimenti e della programmazione del futuro. Ovviamente ci sono ancora tante incognite, però speriamo davvero che per l'estate si possano ospitare grandi manifestazioni, magari con alcuni accorgimenti. Per questi i lavori al vecchio palazzetto dello sport stanno andando avanti, ci sono tutti i presupposti, così ci dicono l'azienda che sta facendo i lavori, l'assessore Belloni, i tecnici, di poterlo riaprire per il Rossignopera Festival che si svolgerà ad agosto e per poi i campionati europei di ginnastica aerobica. Quindi siamo fiduciosi e ovviamente i lavori vanno avanti, sperando davvero che per quel momento ci saremo liberati di questo maledetto Covid o almeno lo avremmo ridimensionato pesantemente. Il logo è stato realizzato dalle studentesse del liceo artistico Mengaroni, Miriam Giugini e Leonora Massa, coordinate dalla professoressa Isabella Galeazzi. Dietro a tanta sintesi, tanta bellezza, tanta lettura chiara, tanta funzionalità di uso, c'è altrettanto lavoro. Però per noi è stato un piacere farlo. I ragazzi hanno lavorato in gruppo, proprio perché avevamo dei tempi un po' stretti, ma alle volte il gruppo funziona quando c'è critica, quando c'è crescita personale. E il gruppo più è armonioso, più ha quelle condizioni, meglio viene il lavoro di gruppo operativo.